Declinare la misericordia in gesti concreti verso chi ha dinnanzi un futuro ricco di possibilità ma a volte dai confini incerti. Nascono con queste premesse i due progetti messi in campo da Cattolica Assicurazione in occasione del Giubileo che stiamo vivendo e dedicati ai giovani che parteciperanno alla prossima GMG e ai giovani detenuti nel carcere minorile di Casal del Marmo. I progetti presentati in un affollato Auditorium Verdi di Verona Fiere sono il risultato della prima e unica business unit anti-religiosi e no profit creata da Cattolica con lo scopo di comprendere e di intervenire laddove necessitano interventi concreti. Sono una serie di iniziative che vengono dal messaggio che Papa Francesco ci ha mandato ancora a quest'autunno al Festival di Rottina Sociale che si è svolto a Verona. La sfida della realtà è stare dentro praticamente ai temi di un mondo che sta cambiando fortemente, del mondo religioso, dalle associazioni, ai volontariati, alle parrocchie, alle diocesi e credo che la cosa migliore che abbiamo potuto fare è mettere in piedi un osservatorio per capire da dentro come sta evolvendo questo mondo e visto che è un consigliato che è cattolica storicamente legata al mondo religioso, trovare gli strumenti migliori per sostenere da vicino le associazioni, il volontariato e perché no dentro le persone che vivono in questa realtà. Ospite d'eccezione del convegno di Cattolica Monsignor Nunzio Galantino, il segretario generale della CEI, chiamato a parlare delle iniziative della Chiesa verso una società che cambia e che interpella tutti a dare risposte efficaci. Secondo me quello che si fa è già veramente tanto, è ovvio che man mano che andiamo avanti le esigenze crescono, le urgenze crescono, anche la complessità chiede nuove attenzioni, nuovi strumenti. A Cattolica bisogna chiedere quello che si chiede a qualsiasi uomo e qualsiasi donna in questo momento, cioè una attenzione particolare a coloro che da soli non ce la fanno, per cui coloro i quali hanno gli strumenti, sia economici sia anche di capacità, di avere un occhio attento a queste realtà, a queste persone, tenendo presente che andare incontro agli ultimi non è una perdita, è sempre un guadagno.